In un mondo dove la violenza cresce in tutti i campi, la non violenza è l'unica via d'uscita? Potrebbe essere una via d'uscita, potrebbe essere una via d'uscita. Il problema è che la non violenza è un concetto detto così un po' vago. Io credo più nella determinazione degli esseri umani a contrastare una scelta violenta, che spesso è quella sbagliata. E la tua impressione su questo forum? Può essere solo che è superficiale, sono stata qua due ore e quindi la cosa che mi ha colpito è che erano tante persone, e per tante intendo, credo, centinaia, ed erano soprattutto ragazzi che sono stati lì due ore con una domenica di sole ad ascoltare storie in qualche modo che potrebbero essere pesanti, ma storie comunque di vita, di esperienze anche molto forti. Potevano fare altro, non l'hanno fatta e questo per me è un vostro grande successo. Tra un anno partirà la prima marcia mondiale per la pace e per la non violenza, che attraverserà i cinque continenti, per dare appunto anelito a questo messaggio di pace, insomma. E vuole essere un momento dove persone di tutte le culture e tutte le generazioni possano dare forza a un messaggio di pace e di non violenza. Vuoi esprimere la tua adesione e il tuo appoggio a questa marcia? Ideale, perché non mi faccio tre mesi di corsa, non sono una sportiva. Sicuramente appoggio qualsiasi iniziativa e poi diciamo questo vostro lato. L'utopia serve, è estremamente utopistico e anche siete in fondo, voi ci credete che succederà. E io spero ardentemente che questo possa essere così. Poi magari diciamo più il pessimismo della ragione, ma sono molto felice e contenta che c'è, che ci siete. Grazie.